star citizen un gioco che conoscerete sicuramente ed è un gioco che è in early access insomma in alfa da una vita l'ho preso perché volevo provarlo e soprattutto so già che è un gioco che lascerò lì a maturare negli mesi negli anni che sarà ma io non sono un esperto infatti vi consiglio il canale di zio aria che fa dei tutorial ne fa tanti ne fa belli completi e mi sono iscritto anch'io sebbene io non lo conosca ma l'ho scoperto per caso vi spiegherà tante cose che io poi ho preso da lui non ci ho giocato proprio per niente a questo gioco ho fatto qualcosina ma diciamo che allora prima che qualcuno insinui ha comprato dopo il vr ha preso anche questo indy ha fatto i soldi no in realtà non sta più uscendo niente di interessante ultimamente anche come indy sto cercando di portare giochi che avevo lasciato indietro tempo fa o di rivisitare dei giochi che non avevo magari approfondito e questo risparmio mi ha consentito magari di investire qualcosina di farmi qualche regalo tra cui star citizen all'inizio ci sono tre modalità universe star marine o arena commander da quello che ho capito l'arena commander è una battaglia in varie modalità con altri giocatori che spero adesso non mi butti in mezzo infatti ci sono varie modalità oppure la star marine stessa cosa ma spara tutto e l'universale l'esperienza normale c'è anche squadron 42 che è una sorta di single player e da quello che ho visto da online sarà utile al gioco uscito per diciamo ottenere uno status da quello che ho visto abbiamo la possibilità di andare a vedere la nostra nave nell'hangar perché il pacchetto che ho preso io costava 45 euro insomma con squadron quindi con l'offline costa 20 euro in più ma io non l'ho preso al momento perché il gioco comunque è lontano dall'essere rilasciato quindi non l'ho preso e ho speso 45 euro potevo scegliere tra due navi io ho scelto la nave quella che mi sembrava la più tranquilla c'è una che sembra un caccia io ho preso l'aurora si chiama mi pare ed è una nave un po più grossa e meno da guerra diciamo infatti montano le armi basi poi sicuramente dirò delle cavolate ma quel canale che vi ho consigliato zero aria vi dissiperà tutti i vostri dubbi il gioco è già giocabile c'è il wipe di tutti i progressi ogni circa tre mesi quando riescono le patch se andate a vedere lo storico delle patch patch ce ne sono state tante quindi per me non è un gran problema quello dell'aggiornamento chi si spaventa che il gioco non è un vaporware insomma abbandonato sono ampiamente secondo me balle vedete abbiamo la possibilità di aprire questo menu con la f1 in cui vediamo tutto si può gestire tutto della nostra tuta l'ossigeno il livello d'ossigeno e tutto possiamo scrivere in chat e possiamo andare a giocare finalmente adesso sto uscendo non so dove ma io avevo iniziato la partita spaceport non so perché non me l'ha avviato vedete possiamo scegliere la regione ma faccio europa dicevo ci sono state diverse patch se guardate durante tutto il 2018 tutto il 2019 ci sono state tante patch e si va avanti manca ancora tanto la critica che viene fatta questo gioco è a un solo un sistema stellare è vero ne volevano aggiungere un sacco ma il mio ragionamento è questo se mi fate un sistema stellare o al più due ma grandezza naturale con un cose da vedere a me onestamente non interessa che non abbia non ci siano mille mondi procedurali e fatti tra l'altro magari male in modo superficiale uno fatto bene con un sacco di gente che gioca un sacco di gente che commercia e per me tanto basta di missioni ce ne sono tante quindi da fare insomma ce n'è abbiamo il nostro personaggio che vedete proprio interamente e partiamo da questa stazione spaziale io vi dico sto giocando con una 20 80 non 2080 come volete chiamarla scattini ce ne sono comunque quindi c'è poco da fare una cosa dovuta del gioco al gioco ma il gioco a delle non le chiamerei innovazioni ma delle belle idee perché punta tutto sull'immedesimazione sull'immersività ora io sto andando al vedete che qua abbiamo il centro di comando io non so nulla non so non so niente possiamo con queste console andare a recuperare la nostra nave ed è quello che voglio farvi vedere per niente per tenere un premuto f si va alla modalità touch e ho l'aurora ok ho la nave la recupero perché vi viene data una nave al momento non c'è modo di perderla quando il gioco uscirà ripeto chissà quando b 0 7 ok perfetto dovete assicurarla appena la perdita della nave ovviamente la nave non è che dovete acquistarla solo adesso si comprano soldi veri per finanziare il gioco ma in realtà gioco uscito la comprerete con i soldi di gioco poi non so se sia già effettivamente fattibile l'acquisto di navi con i soldi di gioco perché si guadagnano due tipi di valute una con quei giochi tipo il battle royale con le navi o corpo a corpo con le armi e quelle in gioco qua adesso io clicco qui abbiamo modo anche volendo di andare ad acquistare vestiti vestiario in questo caso io ho già la tuta si vede perché comunque c'è l'add aperto andiamo a togliere l'aria c'è il layer lock dovrebbe essere l'aria lock si devo capire effettivamente come fare a vedere con l'f4 eccolo qua come fare a vedermi eccomi qua non è che ci ho pensato molto a fare il personaggio avevamo letto B07 qui 06 07 sono di là e quindi si va si corre c'è anche il fiatone vedete il battito e come vi dicevo dovete fare attenzione a gestirvi l'ossigeno il fuel per l'attività extraveicolare e la potenza in uscita insomma le missioni che avete preso ci sono un sacco di cose il loadout della nave l'equipaggiamento che abbiamo e pensate che adesso gli sviluppatori non è che vi lasciano i balieri voi stessi e giocate così fanno anche degli eventi io sentivo che parlavano su una live di multiplayer.it dove avevano fatto su un pianeta questa fiera in cui si poteva andare a acquistare i gadget che poi sarebbero rimasti diciamo di quella fiera allora questa è la mia nave sono l'unico adesso qua presente no c'è gente adesso qua siamo sulla stazione vedete che ci sono i vari landing pad dove la gente parcheggia questa è la mia nave e quello il pianeta qui c'è un altro tizio che sta andando via missioni da fare ce ne sono vi rimando sempre ancora una volta quel canale per open door vedete che apriamo la nave ma in realtà c'è un modo per aprire tutto insieme però è infatti in la scaletta e qua saliamo sulla nave salire sulla nave basta vedere ho visto un video di due anni fa dove la nave aveva dei problemi per poter salire c'erano diversi problemi adesso invece basta cliccare si sale normalmente quindi insomma ci si accomoda qui questa è solo una delle più semplici perché poi in realtà ci sarebbero mille altre navi con le chiusure molto più belle tipo il vetro che si che si chiude insomma si va ad accendere i motori ma prima bisogna accendere tutto cosa che mi fa impazzire perché tenendo premuto a f si attiva la modalità del mouse dove possiamo andare ad attivare varie cose col tasto spazio si accendono i motori poi vedete che possiamo anche andare con la f4 a vedere la nave f4 premo ancora f4 no premo z tengo premuto z col tasto n mi pare si tirano sui carrelli ed è animata veramente molto bene e adesso si può andare in giro adesso io non so dove poter andare perché stanno aggiungendo sempre più posti in questo sistema stellare lì c'è qualcuno c'è qualcosa no si è rosso però quindi non so cosa sia non so se sia amico o nemico quello mi sembra avere l'aspetto di un pianeta gassoso quindi senza possibilità questa è una sorta di hub quindi in pratica quando noi arriviamo ci viene assegnato un po come la serie di x o la serie e lì dangerous andiamo ad atterrare ok io non so non ho onestamente un'idea intanto stiamo accelerando possiamo andare a primare le varie cose addirittura possiamo andare a selezionare che cosa vogliamo vedere sui vari pannelli da quello che ho capito possiamo fare effettuare il salto possiamo vedere adesso andiamo a zoomare possiamo andare a vedere anche i sistemi cannoni missili si possono equipaggiare potenziare le navi questa è una nave non so che cavolo sto facendo però insomma dovrebbe esserci col tasto shift eccolo qua la possibilità di accelerare con i retrorazzi credo si vedano adesso siamo già più o meno scarichi però la nave la vedete è bella carina allora dice di sparare ship combat si spara stiamo già subendo colpi io poi non sono non sono proprio esperto per niente quindi ci sono un bel gruppo italiano che insegna a giocare con cui si può giocare insieme e vedete qua che hanno fatto una gran brutta fine sono già esploso e io volo fuori ovviamente si può scendere si può mettere la tuta si può volare con i retrorazzi insomma quelli sulla stazione e quelli scusate sulla tuta e navigare nello spazio ora siamo ripartiti da qui siamo appena esplosi accidentalmente siamo ripartiti da qua in realtà potrei impostare il punto di respon sulla nave perché la nave non è persa come vi dicevo poi una volta uscito il gioco ci sarà l'assicurazione che si pagherà ovviamente con i soldi di gioco ovviamente i bug ci sono c'è poco da fare con i soldi di gioco e vi garantiranno 8 mesi di assicurazione voglio recuperare la mia nave vedete faccio il claim perché la nave è mia me la mi fa il claim tempo di invio 5 minuti ah ok pagando questi soldi mi viene consegnata in tempo molto più veloce ovviamente io quei soldi li posso rifare andando a fare missioni insomma adesso a breve tra un minutino potremmo andare a risalire volevo farvi vedere qualcosa provare avvicinare un pianeta ma direi che vedete qua c'è il disegno della del pianeta del sistema solare insomma i pianeti sono veramente fatti in modo realistico niente a che vedere con quello che si vede con empirion diciamo che space engineer è un po più realistico ma neanche tanto come dimensioni c'è più come fisica infatti poi dico il modo di dimostrare i pianeti di di space engineer che si vedono proprio che sono fatti si vedono queste montagne che spuntano come come delle spine sul pianeta vero e allora track retrieve ok place wait ok per favore attendi ok c07 grazie per la sua visita ok allora dobbiamo trovare il pad il landing pad c il landing pad c 0 7 quindi ci sono di là i deck sono di là diceva poi io non lo so vediamo abbiamo la porta c 0 7 c 0 4 quello lì cosa sto facendo salve a sta guardando il suo pannello ok eccola la si vede c 0 7 perfetto lo troviamo di qua speriamo vada tutto bene stavolta di non di non esplodere poi non so dirvi se quello era un giocatore o che altro ma dobbiamo giustamente depurarci ci sono delle missioni qua in alto che vedete che partono ogni tanto 0 6 no 0 7 di qua 7 8 qui figo figo tremendamente figo davvero figo allora devo capire vediamo entra ship perché si apre tutto e poi saliamo in automatico saliamo vedete qua posso impostare no non lì non lì qui posso aprire e questo è il letto dove si può solo la partita perfetto va bene exit bad non log out ovviamente molto bella l'animazione c'è il gioco a i suoi punti forti cioè sembra fatto bene comunque anche i movimenti sono belli e e c'è una passione dietro poi che se ne maligni che abbiano tenuto un sacco di soldi o sono tremendamente ambiziosi o sono tremendamente lenti io spero un perché spero che possa andare tutto bene insomma allora adesso f flight on ready ok così siamo già pronti a partire partenza che cacchio non so perché parto sempre così male comunque ok abbiamo tolto non mi ricordo perché ho toccato di nuovo la n quindi non so effettivamente se ho tolto i carelli sì allora adesso io onestamente non mi ricordo perché sono andato in modalità fissa ok c'è qualcosa lì ma sono navi allora diamo un'occhiata esploriamo un po insieme la cosa allora dovrei aprire la mappa stellare vediamo un po qua ci sono i contratti il journal il comlink dove comunicare con altre persone il loadout manager i cambiamenti diciamo alla set route ok porto lisa dove ci troviamo ora ma non c'è nulla in cui poter andare che stiamo siamo all'interno di un orbita ok se volessi andare a non soldi ma eccolo qua dai ma guardate tutti i posti che ci sono ok molto bene set route ok abbiamo settato la la strada diciamo per arrivare lì credo non dovremmo aver fatto però l'analisi diciamo di questo video è più a livello di cose da fare e di plasticità della cosa comunque lì c'è ancora una nave che sta rompendo le balle a qualcun altro spero di non saltare per aria stavolta dovrebbe essere qui eccolo lì eccolo lì dovrei capire come fare il salto press con f2 ok set route e vorrei fare il salto quantico after banner set route ci chiede anche un totte di carburante per fare il salto ok boh sarebbe da da capire adesso come fare il salto perché qua si può spegnere tutto si può dire uscire engine off spool quantum drive ok ok stiamo facendo spool spool spooled ok eccolo lì allineati b per iniziare il salto ok facendo la calibrazione quindi ok no calibrazione ok ok completo ready ok ce l'abbiamo fatta che figo sotto si ci stiamo avvicinando direi che abbiamo stiamo saltando cosa che tra l'altro non avevo mai fatto quindi adesso andiamo un po' a caso insomma 10.000 km 6.000 eccolo lì siamo un po' sfortunati perché arriviamo sul lato scuro però forse riusciamo a girare e quindi bisogna e quindi andiamo voglio provare a scendere come se non ci fosse un domani nel pianeta andiamo un'occhiata tanto scendiamo dai andiamo giù a vedere vediamo vediamo cosa c'è sarà buio ma arriverà il sole prima poi e se volessi no non si può mettere più lo spooling bisognerebbe mettere un bersaglio eccoli qua iniziamo a vedere delle delle location 800 km se io mettessi B eh no infatti non può farmi fare il salto perché c'è un'ostruzione un qualcosa niente potenziamo con la rotellina tra l'altro prima non l'avevo fatto e vediamo di entrare nel pianeta era così ohodiooll哦 scusi eh perdoni non volevo surriscaldare la navicella mi scusi era in effetti eh domanda stupida siamo sugli 8G tra l'altro ci sono anche dei sistemi di sicurezza sulla nave che ci consentono di evitare e questo l'ho scoperto sempre da quellore youtuber che vi ho detto più volte di perdere i sensi dei sistemi che non ci fanno andare a eccessivi G e quindi non ci fanno perdere conoscenza, perché se perdiamo conoscenza in pratica la nave va avanti per il conto suo allora, io adesso vorrei scendere sul pianeta, ma stiamo andando proprio piano piano 5G no magari 4G beh, e se io metto questo? spooling infatti siamo troppo lontani eh, voglio andare lì troppo vicino beh, vediamo no, non si può no, non si può non si può non si può non si può e bisognerebbe avere un po' di potenza in più intanto continuano ad arrivare missioni intanto sto guidando la nave si vede proprio l'omino con ci vorrà un bel po' ad arrivare però adesso io ho deciso di cioè perché si è spenta la nave? no, ok eh no ci vuole una vita adesso qua inserirsi quindi direi che al momento io vi ho mostrato questo e fatemi sapere se vi interessa vedere un proseguio quindi magari l'atterraggio sul pianeta e vedere com'è perché sembra una cosa anche piuttosto lunga quindi magari mi informerò su come farla bene ora io posso fare una cosa di questo tipo e spengo il motore poi dovrebbe essere possibile andando ok qua scendere e andare a dormire oppure andare fuori muovendosi diciamo nello spazio ma io direi che in questo caso entro nel letto no dovrei salvare la partita in modo da ripartire qui la prossima volta salvo eh salvo problemi insomma e vediamo se mi lascia già salvare qui ok infatti allora ragazzi detto questo ci sentiamo al prossimo video gameplay fatemi sapere che cosa ne pensate di Star Citizen se vi spira l'avete già preso siete tentati vorreste vedere qualcos'altro ovviamente non si è visto nulla però volevo solo analizzare da un po' dal punto di vista grafico tecnico qualche baguettino c'è sicuramente contenuti già ce ne sono da quello che ho visto ho visto giocare c'è un sacco di gente che ci gioca anche italiani tra l'altro trovo più post su internet del gruppo italiano di Star Citizen che su quello di Elite Dangerous tra virgolette insomma quindi fatemi sapere la vostra e alla prossima e ciao ciao ciao